di dare il buongiorno e il bentrovato a Don Gianni Castorani, fondatore della scuola di evangelizzazione Jeunesse Lumière Italia. Don Gianni anzitutto buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, per i nostri telespettatori un po' ti conosciamo, l'ultima volta che sei venuto siamo partiti da una notte, una notte in particolare che in qualche modo ha cambiato la tua vita e ti ha dato una vita in più, che è il titolo del libro di cui parleremo stamattina. La notte in cui a un certo punto tu eri solo nella tua stanza, ti colpisce un ictus. La situazione sembrava completamente disperata, anche perché i soccorsi ci mettono un po' di tempo ad arrivare, un po' perché eri solo, un po' perché addirittura sbagliano strada. Arrivi in ospedale e la situazione sembra davvero critica, sembra non esserci nulla da fare o se quantomeno ci fosse qualcosa da fare non saresti mai tornato quello di prima. Di fatto non sei tornato quello di prima, ma non perché porti dei grandi segni della tua malattia, ma perché in realtà in quell'ospedale tu hai sentito l'abbraccio del mondo che ti stava intorno, dell'affetto che ti arrivava tramite centinaia di preghiere e di tanti medici che hanno definito addirittura la tua guarigione miracolosa. Ho fatto questa premessa per raccontare dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, però vorrei ripartire da un Gianni bambino, in realtà non ancora nato, da un amore con Maria che ti porterai durante tutta la tua vita ma non sapevi di avere, perché è addirittura la tua mamma che in qualche modo prima che tu nascessi, prima che tu fossi concepito, ti affida a Maria. Sì, praticamente mia mamma dopo aver avuto mio fratello non riusciva a avere altri bambini, infatti sono nato 18 anni dopo, quindi un bel po' di tempo e allora ha fatto una preghiera a Maria, una novena e alla fine di questa novena proprio ha fatto un sogno, ha visto proprio Gesù al centro e degli angeli vestiti di azzurro a destra e di rosa a sinistra e Gesù che dice chi vuole andare da questa mamma? E parte un angioletto vestito di azzurro e mia madre dice allora io farò un figlio maschio e la preghiera che lei aveva fatto prima della mia nascita diceva signore ma dammi un altro figlio, se me lo darai io lo darò a te, quindi ero spacciato prima di nascere. Eri spacciato prima di nascere, mai avresti pensato di diventare sacerdote? No, mai nella mia vita perché la mia vita, insomma fin quando ero piccolo avevo una passione forte per il calcio, mi ricordo a 5 anni mettevo la mia nonna in porta con la scopa, giocavo a calcio tantissimo e quindi il mio sogno era diventare un calciatore, infatti all'età di 13-14 anni. Credo che tra quelli ci sei tu. Eh sì, sono questo di qua. Quello capellone lì sotto. Sì, sì, il terzo là. E quindi avevo cominciato a giocare nella squadra del mio paese e poi piano piano sempre più squadre importanti fino a fare dei provini di squadre di Serie A, Fiorentina, Inter eccetera. E poi quando questo sogno sembrava realizzarsi e invece poi i miei mi hanno detto ma no andare a Milano all'Inter insomma è un po' distante a 13 anni e quindi e quindi di lì diciamo è nata un po' una ribellione verso di loro, verso questo sogno che non si realizzava e da lì ho cominciato a vivere un po' un po' così ecco qui andare fuori in discoteca, tornare tardi la mattina insomma e la mia mamma pregava molto per me. E tra l'altro diciamolo non ti aveva mai detto di questa promessa che aveva fatto? Non ti aveva mai detto che aveva detto se tu mi dai un figlio signore io in qualche modo te lo ridarò. Inizia un momento di ribellione, tu lo definisci così, hai diciamo una vita quella di un giovane qualsiasi diciamo senza grandi dissenamenti però comunque la vivi molto in maniera leggera, in maniera molto frivola se così volessimo dire. Addirittura inizi a fare un corso per disc jockey e da lì però qualcosa inizia a cambiare. Che cosa succede nella tua vita Don Gianni? Ma succede che mia mamma non smette mai di pregare per me, lei mi ha consegnato a Maria, infatti quando è andata a Medjugorje ha scritto il mio nome sulla croce blu e ha incontrato Maria, la e lei dice va bene durante l'apparizione pregherò per lui. Quindi ecco questa presenza di Maria lungo tutta la mia vita anche quando io non ci pensavo neppure. Poi mia mamma va anche a Lourdes, torna da Lourdes, prende l'acqua benedetta di Lourdes, ogni giorno benedice la mia camera con l'acqua di Lourdes. Quindi ecco una presenza costante, una preghiera costante di Maria durante tutta la mia vita. Poi a un certo punto dopo sette anni di finanziamento io ci lasciamo, mio papà ha un ictus e io perdo il lavoro quindi in un momento di crisi dico Dio se tu esisti dammi un segno che esisti e qui ecco avviene il momento, uno dei momenti più importanti della mia vita a Rimini nel 94 con padre Emiliano Tardif che sarà presto beato e lui dice durante la preghiera di guarigione c'è qui una persona malata, una scherosi multipla, una persona paralizzata, il Signore ti guarisce alzati e cammina. Io vedo questo segno, questa persona che si alza dalla carrozzina e inizia a camminare e io rimango stupefatto davanti a questo e da lì ecco comincio a piangere, torno a confessarmi e inizia diciamo un cammino nuovo. Un cammino di conversione che però ancora non ci spiega come mai adesso tu porti quel colletto, diventi poi sacerdote, fondi addirittura una scuola di evangelizzazione qui in Italia a Bagnarripoli dove dopo la pubblicità andremo, continueremo ovviamente con il racconto di Don Gianni, capiremo come la Madonna anche nel momento della tua malattia, quest'ultima che abbiamo raccontato si è fatta presente in maniera concreta nella tua vita e andremo anche a scoprire un bambinello che è custodito proprio all'interno della scuola di evangelizzazione. Dopo la pubblicità rimanete con noi. Una vita in più è il nuovo libro di Don Gianni Castorani che racconta un po' la sua storia che stiamo cercando di mettere insieme pezzetto dopo pezzetto. Don Gianni prima della pubblicità ci siamo lasciati alla tua conversione, stiamo parlando anche di come Maria in qualche modo è stata presente sempre nella tua vita. Abbiamo parlato della tua conversione, ci siamo lasciati più o meno al 94 quando inizi un percorso di fede, di cambiamento, da qui però non abbiamo detto come invece arriva quel colletto e quindi la tua vocazione. A un certo punto tu eri in Sicilia, è passato qualche anno, siamo diciamo intorno ai primi anni 2000 e entra una ragazza in chiesa, tu eri lì per fare servizio con le sentinelle del mattino, entra una ragazza in chiesa che in qualche modo ti colpisce particolarmente. Sì, è una ragazza che era lì che stava passeggiando e l'hanno invitata in chiesa per un momento di evangelizzazione e io la colgo, comincio a parlare con lei e lei mi racconta tutta la sua vita, comincia a piangere, allora io dico adesso devo portarla da un prete per la confessione, cerca, cerca, non c'era neanche un prete, mi rivolgo al signore e gli dico ma signore ma è possibile neanche un prete per confessare questa ragazza e nel mio cuore sento una parola che mi dice ma io ho chiamato te e ho fatto la preghiera sbagliata perché dicevo tutto ma prete no signore, missionario, quello che vuoi, ma e invece lì ho sentito proprio che signore mi chiamava a questo e poi tornando a casa ne ho parlato con mio padre spirituale, poi col vescovo però ecco e gli dicevo. Ancora non eri convinto, ancora volevi un segnetto, volevi qualcosa che confermasse quel sigillo di cui talvolta parlano le scritture e quindi arriva il settembre del 2006 quando tuo papà sta male e tu a un certo punto lì dici dammi un altro segno signore se questa è la mia chiamata confermamelo in qualche modo. Sono peggio di Tommaso e praticamente mi passava male e stava per morire, io avevo deciso se di entrare in seminario ma non ero proprio, ero convinto ma signore ti chiedo un segno io va bene ho deciso vado in seminario però ecco ti chiedo di portare il mio papà in cielo però me lo fai capire che lo porti in cielo e quindi deve ti chiedo che lui possa morire di domenica e alle tre perché in casa si pregava la conoscenza e la mia misericordia quindi era una tradizione e insomma mio papà è morto domenica primo ottobre la festa di Teresina alle tre e quindi gli sono rimasto così ho detto va bene lo signor ho capito. Hai capito lì inizia un percorso bellissimo che ti porta tra l'altro a fondare la Genesse Lumière Italia che tra l'altro è un luogo veramente veramente bello dove si respira l'aria di famiglia di amore quella che in qualche modo la tua oma Vincenzina che salutiamo che ci guarda da casa benediceva nella tua stanza e lì è custodito anche un bambinello, un bambinello miracoloso che ci porta proprio a quell'amore, quella tenerezza di cui stiamo parlando anche dall'altro lato dello studio partiamo per Bagno a Ripoli con Giuseppe Chianter Siamo a Firenze, Bagno a Ripoli nel monastero dello Spirito Santo che era un'ex colonia medievale poi nel XIX secolo è diventato un monastero. La fondatrice è Santa Umiltà e qui c'è il corpo incorrotto, è stato trovato incorrotto e che ha emanato fin da subito un olio santo. Santa Umiltà aveva avuto un'apparizione della Madonna che le aveva fatto vedere il bambino Gesù e lei l'ha fatto riprodurre lo stesso bambino che ha visto nell'apparizione da un falegname in legno quindi e questo bambinello miracoloso perché una sera la Santa benedicendo le sorelle, le monache, il bambinello ha tirato fuori la manina dalla fascia. Tante persone vengono qui per chiedere la grazia soprattutto le donne che non riescono ad avere un figlio. Oggi il monastero è la sede della scuola di evangelizzazione Genesse Lumière, la sede principale diciamo la casa madre in Francia, questa è la sede italiana è diciamo una comunità di giovani dai 18 ai 30 anni che donano un anno della loro vita a Dio, un anno di formazione, di comunità, di missione, di preghiera. È un anno cerniero diciamo in cui i giovani possono fermarsi e ripartire poi nel mondo con una nuova spinta. Ogni due anni si va in missione nelle scuole, nelle spiagge, nelle carceri, nelle discoteche, a incontrare proprio i giovani perché è una scuola di giovani per i giovani e nello stesso tempo la missione è di giovani che vanno verso altri giovani e raccontano quello che per loro è stato l'incontro con Dio. Per me è stato bellissimo vivere e è stata una scoperta lo sguardo profetico che è un aspetto della scuola molto importante, è un punto fondamentale, cioè guardare l'altro come Dio lo guarda, che è una cosa difficile da mettere in pratica sugli altri ma soprattutto su di sé. Consiglierei questa esperienza a tutti i giovani che sono in ricerca, che desiderano conoscere se stessi, conoscere Dio veramente fino in fondo e anche magari fare un discernimento sulla propria vocazione, ma soprattutto per chi desidera testimoniare. Quando hai la gioia nel cuore e non ce la fai a tenerla per te ma vuoi ridonarla e per me l'evangelizzazione è stato questo ed è stata la gioia più grande. Una gioia più grande Don Gianni che in realtà tu hai collezionato tante volte nella tua vita, l'hai collezionata nella vita di uomo e di sacerdote. La scuola di evangelizzazione per te è casa, ovviamente quei ragazzi ti hanno salvato la vita perché abbiamo fatto un'introduzione ma a quei ragazzi tu devi questa vita in più in cui parli nel libro. Non abbiamo tantissimo tempo però c'è ancora qualcosa da raccontare rispetto a Maria presente nella tua vita e questo ci porta a Meggiugorie e ci porta a Meggiugorie in maniere tanto diverse tra loro. C'è un canto per chi è stato lì che dice Gospa, Maika, Moia, Kralizza, Mirà. E' quel canto che tu hai sentito nel tuo cuore quando stavi male e quel canto che hai ritrovato poi il 13 maggio, un giorno non casuale. Sì, praticamente era la festa, mi stavo preparando a questa festa con una novena. Mi ricordo che ero in contatto con una ragazza spagnola della scuola di evangelizzazione di Francia e mi mandava la novena ogni giorno e quindi stavo pregando, pensa in spagnolo, la novena. E quindi quando è arrivato poi il 13 maggio, la mattina prestissimo, verso 5 e mezzo, 6, ho sentito ai piedi del letto la presenza di Maria, ma così forte che mi sono messo a piangere, mi sono commosso ancora oggi, pensando c'è veramente una tenerezza incredibile e Maria mi dice non temere, guarda io sono qui con te. E quindi la sua presenza è sempre stata vicino a me e l'ho sentita molto forte in quel giorno lì. E l'hai sentita forte anche quando eri in quel letto d'ospedale, l'hai sentita forte perché io immagino quanti rosari siano stati detti e il rosario è la vita di Gesù ma che passa per le mani di Maria. E tu ci hai tenuto tra l'altro a ringraziare le persone che pregavano per te nonostante per te fossero veramente giorni assurdi, non sapevi se avresti recuperato la parola, non sapevi, addirittura ti dicevano fai la domanda di invalidità e tu dicevi no perché la Madonna me l'ha detto che tutto tornerà come prima. Sì, e praticamente io ho questa amicizia con Maria che è una veggente di Medjugorje e quindi ogni giorno si pregava insieme, lei mi mandava i messaggi e mi diceva non ti preoccupare, io prego per te ogni giorno e quindi io ero sicuro, ero contento, sentivo una gioia incredibile e questo accompagnamento di Maria mi ha dato veramente una gioia in questi momenti difficili, in tutti i momenti della mia vita ma questo è in modo particolare. E c'è qualcuno che in qualche modo quella catena dolce che ci rannoda a Maria l'ha voluta espandere a tutti e sono due i tuoi amici, Beatrice Bocci e Alessandro Greco che ci hanno mandato un video per te, guardalo! Sorpresa! Ciao Donji! Un bacio a tutto lo studio! Allora, abbiamo voluto essere presenti anche noi con un messaggio oggi, vedi io e Ale non siamo neanche insieme perché lui è fuori per lavoro, io sono a casa, però quando ci hanno chiesto di farti un video messaggio siamo stati felicissimi di farlo, ringraziamo Dio per questo cammino insieme che ci vede uniti da qualche anno e ancora di più in questo tempo dove questo episodio straordinario è un po' sconvolto, la tua vita è anche la nostra ma ci ha fatto risorgere in Cristo insieme a te, è veramente una meraviglia ciò che il Signore ha compiuto nella tua vita da sempre ma nell'ultimo tempo in maniera straordinaria. questo libro di testimonianza, ecco, ci dà proprio il segno di quello che stiamo raccontando e quindi siamo con te, ti vogliamo sostenere perché questo libro agisca con potenza nel cuore di chiunque lo legge, come una meravigliosa preghiera. T'abbraccio e ti voglio tanto bene, a prestissimo, ciao ciao! Caro Don Gianni, amico fratello e padre nella fede e tu ci aiuti a custodire, ad alimentare e a far crescere sempre la nostra fede perché sei un miracolo vivente e con tutto quello che è successo nella tua vita ma soprattutto quello che è successo di recente nella tua vita ci dai testimonianza che nulla è impossibile a Dio. Ti voglio tanto bene, ti bacio, ti abbraccio e anche se tu hai un canale preferenziale ti benedico. Grazie per tutto. Don Gianni, Beatrice, Alessandro sono una piccola parte di tutta quella catena d'amore che è arrivata a te e che tu racconti in questo libro che appunto si chiama Una vita in più, un cammino di rinascita e di fede. Loro ti hanno anche scritto la prefazione. Abbiamo un minuto, ma per chi ci sta guardando da casa e volesse iniziare a leggere questo libro, loro ci hanno detto che è un modo per vivere le difficoltà con speranza. Tu che cosa potresti dire? Sì, praticamente è un libro in cui invece di abbandonarsi di fronte alla sofferenza possiamo decidere di fare due cose. O di chiudersi e quindi di arrabbiarsi e di ribellarsi e dire perché a me? Oppure di aprirsi a qualcosa di nuovo, perché sono convinto che dietro la croce c'è sempre la resurrezione. La croce, adesso stiamo in cammino di quaresima, tra un po' la Pasqua, quindi tutto quello che ci capita nella vita, specialmente in momenti più dolorosi, hanno un bene più grande. Spesso le difficoltà, le sofferenze che Dio permette nella nostra vita sono per un bene più grande, non così perché ci piace estremamente. E noi speriamo che veramente possiamo in qualche modo intravedere quella luce, quel bene più grande che stamattina dai tuoi occhi traspare. Grazie mille, come sempre. Grazie. A Don Gianni Castorani, fondatore della Giolesse Lumière Italia, una buona giornata a te e noi ci spostiamo.